Buongiorno dalla redazione di Florence TV, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Vivio con l'A1. Sulla Fipili per lavori, due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze e un chilometro di coda per Incidente in direzione Livorno tra Vicarello e il Vivio per l'A12. La viabilità cittadina a Firenze, via del Ferrone è chiusa da via di Soffiano a via di Morelli per lavori all'impianto di illuminazione pubblica. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!